Due immobili vecchie sedi della giunta regionale a Pescara, Viale Bovio e Via Raffaello, scopriamo che nel 2023 la regione Abruzzo con molto ritardo vuole monetizzare questi immobili, li vuole vendere e soprattutto scopriamo che dei 6 milioni di euro che si incasseranno saranno destinati alle infrastrutture della provincia dell'Aquila, sedi di Pescara, fondi sulla provincia dell'Aquila, sulle infrastrutture della provincia dell'Aquila. Intanto abbiamo sottolineato il profondo ritardo, 4 anni di tempo per la giunta Marsiglio e per l'assessore senatore Liris che è anche assessore al patrimonio della nostra regione di dimenticanza di questi due immobili che sono diventati ricettacolo di rifiuto, di sporcizia e di abbandono totale che adesso solo nell'ultimo anno di mandato della giunta Marsiglio mettono in vendita e poi che il ricavato andrà alla provincia dell'Aquila. Profondo sdegno anche perché dei consiglieri di maggioranza di centrodestra di Pescara, di Incecco, Testa, Sospiri, Laveri, Derenzis eccetera, nessuno ha detto assolutamente nulla. Presenteremo quindi un emendamento per abrogare questa porcheria e chiediamo che tutto il consiglio lo voti. Oltretutto, mentre si propone la sede unica all'interno dell'area di risulta, scopriamo che l'assessore Liris non ha neanche stanziato i fondi per la progettazione. Del vecchio importo di 2 milioni che non sarebbero comunque sufficienti, infatti a microfono l'assessore Liris ci ha confermato che sono per tutti gli immobili regionali e non destinati soltanto alla sede unica di Pescara. Sede unica la cui localizzazione nell'area di risulta noi profondamente contestiamo.